La curva dei contagi in Sardegna continua a rimanere stabile, ma non dà indicazioni sulla sua evoluzione nel breve e medio periodo. Anche per questo saranno importanti i dati sull'epidemia che arriveranno nei prossimi giorni. Questo al fine di dare alle autorità sanitarie regionali e a quelle politiche indicazioni sulle misure da adottare a partire da fine aprile, per guardare eventualmente alla seconda fase, quella in cui far ripartire sia pure con cautela l'economia. In Sardegna nell'ultimo 24 ore sono registrati 10 nuovi casi di coronavirus che hanno portato il totale a 1.138, numero che comprende anche le 159 persone guarite, 19 in più rispetto ad avantieri e le 80 decedute, 5 in più rispetto all'ultimo aggiornamento. In totale nell'isola sono stati eseguiti 11.893 tamponi. Scendendo nel dettaglio delle 900 persone attualmente positive nell'isola, 24 sono in terapia intensiva, 107 ricoverate con sintomi, 769 in isolamento domiciliare. A livello provinciale 201 casi sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 86 nel sud Sardegna, 35 a Oristano, 67 a Nuoro, 749 a Sassari. Ieri il Presidente della Regione Cristian Solinas ha adottato nuove misure restrittive che vanno in controtendenza con quelle varate dal Governo nazionale, in linea con quelle delle Regioni che contano il numero maggiore di casi come Lombardia e Piemonte. Misure criticate dall'opposizione e dalle organizzazioni di categoria per la tempistica con cui sono arrivate, proprio alla vigilia della possibile riapertura. Nell'isola comunque l'attenzione rimane alta al fine di non disperdere il lavoro fatto in queste settimane in cui si è riuscite a rallentare il ritmo dei contagi, consentendo alle strutture sanitari di attrezzarsi e predisporre i posti di terapia intensiva, anche se per fortuna al momento non c'è stata la saturazione che si temeva un mese fa. Adesso l'obiettivo è quello di azzerare i contagi per poi guardare alla ripartenza, non solo della vita economica ma anche a quella sociale, che comunque dopo il coronavirus non sarà più la stessa.